Buongiorno bella gente, come state? Tutto a posto? Io sono appena tornato dalla terapia del dolore, cure palliative, detti anche. Ho ritrovato finalmente la mia dottoressa con la infermiera Annesa, che sono due persone stra simpatici e stra gentili. L'ultima volta non c'erano loro e mi avevano spostato di stanza, come anche in questo caso, quindi di conseguenza ho avuto per un attimo paura di non rivederle, per quanto gentili e simpatici fossero anche le altre due persone che ho conosciuto in quell'occasione, per carità, quindi senza nulla a togliere nessuno, ma sono contento che sono tornate loro. Mi sono, cosa che ho detto anche loro, tornati i dolori in aumento, infatti da ieri ho dovuto ricominciare a prendere come antidolorifico il cerotto del fentanyl. Per chi non sapesse cos'è, è un cerotto piccolino, che si attacca, nel mio caso, sul braccio, non so se è una cosa obbligatoria o in base alla parte del corpo e così via dicendo, questo non lo so, però sta di fatto che io l'ho attaccato qui, adesso vi faccio anche vedere molto velocemente, ecco, non si vede purtroppo, perché sotto questo coso bianco, io ho messo su un cerotto anche, proprio così quando mi faccio la doccia, ecco qui, non rischio che magari l'acqua lo toglie e lo porta via con sé, quindi ho messo su questo altro, che me l'hanno oltretutto consigliato loro stessi. È un cerotto praticamente quello del fentanyl, questo qui è un 50, per essere precisi, che rilascia ogni ora una piccola percentuale di oppio. Non è che cura per forza il dolore, ovviamente dipende da quanto è forte il dolore, però sicuramente ti fa stare meglio, cosa che infatti succede così da quando l'ho messo, sto decisamente meglio, non sono guarito dai dolori, ma sto decisamente meglio, ho potuto dormire abbastanza tranquillamente stanotte, quindi ben venga. Allora, l'unica cosa, questi cerotti, quando li metti, devi tenere conto, cosa che dicono i dottori stessi, che ci mette un'ora a partire, cioè non è che tu l'attacchi e già stai meglio, no, ci mette un'ora a cominciare a fare effetto un po' alla volta. Quindi, nel mio caso, appena cominciò a sentire un dolore un po' più forte e prolungato, non una fitta e via, allora mi com'è ne metterlo subito, perché appunto tenere conto di queste tempistiche. Comunque, dato questo, la terapia del dolore è andata bene, il dolore mi ha trovato bene nel senso, almeno moralmente, perché ero lì, credo, io scherzavo, come il mio solito, perché è difficilissimo che non lo faccio, per come sono fatto io un po' fuori di testa, e anche nelle situazioni un po' più particolari, mi è piacerebbe scherzare, le ho, come si chiama, aggiornate su quella che è stata l'attacca, perché loro ancora non sapevano niente. Abbiamo parlato di, poi ne parlerò al DH medico di questo, di un ipotetico drenaggio, un nuovo drenaggio, dovranno fare un'ecografia e, nel caso drenare, ma questo ne parleremo più avanti, i 13 andro là, ne parleremo e vedremo cosa mi diranno. Ho detto loro della nuova terapia che dovrò fare, che non ricordo il nome, ma gli ho detto come funzionerà, cioè nel senso boccetta, 24 ore, il giorno dopo torno, me la staccano, è finita lì. E proprio per questo il 14, cioè lunedì 13 vado lì per la DH per mettermi sta cosa, martedì 14 torno da DH per toglierla e martedì 14 sempre, alle 12.10, avrò una videochiamata con la dottoressa e l'infermiera delle cure palliative, cioè appunto la terapia del dolore, per sapere come sto, come è andata la terapia, che tipo di terapia sto facendo, proprio il nome specifico, quali effetti mi può dare, se c'è un aumento di dolore, nel caso aumentiamo anche di conseguenza gli antinfiammatori e antidolorifici, di tutto questo genere di cose incredibili. Io ho detto molto chiaramente loro, signore, sappiate che io quel giorno che voi mi videochiamate, scrivetelo perché lo faccio, sappiate che io mi travesto da Babbo Natale, perché loro sanno che ho il costume, ho fatto vedere loro le foto di Natale, come quello che ho messo anche qua sul canale, lo short è forse anche una foto, non mi ricordo, sta di fatto che io mi presenterò così alla videochiamata, con su barba tutto quanto imbardato, anche se un po' fuori il periodo, ma comunque l'importante è che sia divertente che ci faccia quattro risate, ragazzi, che se ne frega di tutto il resto. Comunque loro hanno preso sorridendo, assolutamente che devo farlo così mi possono fare foto, e voi sappiate che quel giorno, quando mi sarò vestito prima della videochiamata, farò una foto e la posterò sulla community del gruppo, così anche voi vedrete la cosa, per l'ennesima volta però vabbè. Spero di ricordarmi più che altro, perché ora del 14 con la mia memoria, ragazzi, è lunga. Comunque, dai! Ah, un'ultima cosa sul fatto del dolore, adesso incrociamo le dita, io spero veramente di sbagliare, ma potrebbe essere che mi sta tornando una vecchia conoscenza, nel senso che chi mi segue da più tempo ha recuperato comunque i video magari meno recenti, diciamo così, non vecchissimi, ma meno recenti. Sa che c'è una massa piccola, disgraziata, che si piazza qui, praticamente qua, e non è che mi impedisce i movimenti, però praticamente ogni passo che faccio vado a soffrire come un cane. Per me obbedire, ovviamente, nel senso che vado a soffrire tantissimo, è una cosa lancinate, e sono costretto poi ad usare le stampelle, cosa che mi è già successa più di una volta. E oggi sentivo quel dolore in quel determinato punto, potrebbe essere un caso, adesso sto bene, potrebbe essere un caso, potrebbe non succedere nulla, ma mi ha ricordato molto quei momenti così, quindi, non lo so, prepariamoci anche a queste eventualità, ma nel caso fa niente, ragazzi, è proprio una stupida, sì, sarà doloroso tutto quello che vuoi, andrò un giorno in stampare, tutto quello che vuoi, ma sappiamo cos'è, sappiamo che come arriva se ne va per i cavoli suoi, magari mi dura un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, ma tanto, ripeto, come arriva se ne va, quindi non sarà un problema, nel caso comunque dovesse succedere, vi avviso all'istante. Ragazzi, buona giornata, buona continuazione, appena avrò aggiornamenti, ve li dirò senza problemi, adesso questa cosa, non mi ricordo se l'ho già detto nel video precedente, perché entra la mia oncologa, ha detto che se voglio, è una cosa molto veloce, c'è la possibilità di incontrarci io e lei per poter parlare della nuova terapia, così prima di iniziarla al 13. Non è una cosa necessaria, tutto ci sto pensando, nel caso fosse così vi faccio sapere e vi aggiorno di conseguenza. Vedremo, dai ragazzi, buona giornata, buona continuazione, buon tutto, alla prossima, ciao!